Ragazzi è incredibile, le donne una volta al mese hanno il ciclo, io una volta al mese non vi porto un bel lotto importante non so al contempo. Ma prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Magic Corner, quindi se avete bisogno di carte singole o prodotto sigillato trovate il loro store qua sotto in descrizione. Inoltre se volete convertire le vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon in denaro sonante vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il mio Instagram. Contattatemi lì, mandatemi le foto e se c'è qualcosa che mi interessa se ne può parlare. Ah, ovviamente se volete supportare il mio canale e il lavoro che faccio qua sulla piattaforma vi basta solamente mettere mi piace e scrivervi. In più se volete essere proprio tra i migliori vi basta andare anche qua sotto che c'è Twitch, collovatemi lì e se volete buttate anche il Prime. Detto questo io passerei all'unboxing, così, perché c'è tanta robina carina da vedere. Allora, a sto giro lo sono andato a prendere vicino casa e... no vabbè, vicino casa nel senso ho dovuto prendere la macchina, però diciamo che ne è valsa la pena eh. C'è la roba interessante, adesso andremo a vedere eh. Allora, mettiamo via lo scatolone grosso e partiamo da quello piccolo. Che poi qua a mezzo c'è anche roba per la mia collezione, tipo no, questo è... vabbè, no. Sto set ancora non lo faccio, però. Comunque è robetta vecchiotta, abbastanza messa bene, scaglia uomo trio. Cioè ragazzi, guardate una volta come venivano disegnati i personaggi maschili. Abbiamo Shaolex Wayne, Urbellum, Shaolex X, Psy Bestia, questa è ottima, attualmente si aggira sulla decina d'euro. Poi abbiamo Forbici della Morte, Androsfinge in inglese, ok. Agido, incredibile, Ishizu. Uh, no ragazzi, ce l'abbiamo tutti e tre. Keldo, Kelbeck e Agido. Incredibile. Questa diciamo che era la loro forma base. Allora, poi abbiamo Cannonata Nera, Stato del Vento, Necomane, che è in ottime condizioni. Top, poi Gia della Mutazione Duo, poi Decoici, Luna, il Time Wizard da DL. Bello, raro, peccato che è rovinato. Degli Stregoni, Drago del Tuono utile per Edison. L'Oscurità, Stato dell'Elefante, poi Insetto Trapano in prima, Panda Gyakugire. Molto bello, vorrei una fodera, grazie, perché è un bel NM. Levamolo da sto Mac Spacca Metallo da MP che è bruttissimo. Anche sta roba sta tipo a 10 euro. No, 10 no, però sta sempre a tanto. Si gioca in GOT e non ha tipo a due print vecchissime. Poi per il resto un po' di ratti, Serpente Sinistro, questa è ottima. E niente. Allora, 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 andiamo con il secondo mucchietto. Vediamo se c'è qualcosa di carino. Abbiamo Rovine Diffuse, Pistodio della Porta, rara. Statuto Bloccato, un po' di Giare, un po' di Lei Evoluto Tu. Armatura, Sacurezzo, penso a Profusione, sì, un botto. Il Carro di Gladiatori Bestia da Rimp, anche questo bellino. Specchio, Muro. Luce dell'Intervento, che anche questa si gioca in GOT. Poi Muro, Muro, Rivalità, anche questa ottima come carta. Che si aggira sull'euro e 50. Mudora, eccolo. Mancava solo questo e abbiamo tutto il reparto Ischizu. Poi Parshat Raro da Retropack. Quello, vabbè, versioni common anche. E niente. Ah, un po' da Dier. Ragazzi, queste sono bellissime. PMT, PMT, LDD, Protettrice del Trono, Ryukishin Potenziato, Soldato della Scienza. Poi Yosube, Tifone Alato, Fantasma, Cerbero, anche questa PMT in seconda. Mura Labirinti, Checlaon Mistico, Gatto Matadami, Parassita, Guardia, Grande Ladro e... Una rara da Sod, che nel pratico è terrificante. Va bene, andiamo avanti. Diciamo che questa era la roba un po' paltosa, eh. Che comunque... Nel senso, parliamone, c'è roba interessantissima dentro, eh. Allora, abbiamo Macrocosmo, Spaccatura, Kiko. Anche questi a profusione, Navicella DD, Epuratore. Oh, adesso mi sa che becchiamo la roba bella. Naturia Guardiano, Distruttore Fotonico, Riciclatore, Fusione Occhi Diversi, Secret, DMP. Poi abbiamo due artistami, no, un po' d'artista amico, Inotama, un altro Mudora e... Tonjio, per la collezione. Allora, allora. Abbiamo anche un po' di roba di Pokémon in mezzo, però vedere anche quella. Allora, tiriamole fuori tutte. Abbiamo una Bad Direction Tosimoki, Cavagliere Pixie... Che cazzo è? Un gatto? Ma... No, ragazzi, inquietantissimo sta roba. Chi l'ha mai vista? Gatto nero dalla coda bianca. Poi, Anziano, Mandragora, Giara Dimensionale. Cazzo di... No, ma è bellissima. Una volta ce l'avevano un botto coi gatti, eh? Tribù, Orecchia da Gatto. Poi, vabbè, eh... Non so più dove metterle. Allora, abbiamo Uovo Mostro, Rana Pescatrice, Muro Illusorio, Madre Grizzly, Striglia della Foresta Nera, Uragano, Cavaliere e... Ma per adesso c'è anche roba sfondata. Xing, Xen, Wu. Xing, Zen, Wu. Questo ottimo per Got. Guardate. Da giocare di side. Non vorrei smintarle perché mi servono. Mi serve la terza. Poi abbiamo Corruzione, Tifone, Senza, Terreno all'altra dimensione, Ray Jackie Cristallo, Vampiro Takeover, Carta Regalo, Aria di Nonfusione, Limite di Evocazione, anche queste ottime. E il primo monarco. Poi abbiamo Prigione, Ritorno, Microspia, Desideri Solenni, Riposo Eterno, Meteoro della Morte rara. Bella. Anfora, da SDM in prima. NM, questa è bellissima. Non so in quante sono. Sono due. Top. Poi Decreto Reale, Catena Demoniaca, Dobrozzak, Mudragon, che non me lo voleva dare per un qualche motivo. E io lo volevo perché dovevo giocarlo con Super Poli. Quindi grazie a Dio me l'ha lasciata alla fine. Io ho preferito lasciargli altra roba rispetto a quello. Poi abbiamo Drago Tridente Ultra, in prima. Molto bellino. Iperdistruttore, Guerriero Trapano, Formula Synchro, Natural Landoise e cosa a casa. Allora, continuiamo con le comuni, probabilmente. Perché la roba succosa me la voglio proprio lasciare per la fine. Abbiamo qua un sacco di Super Vecchie. Umi, Foresta, Landa Desolata, Talismano, Dark Snake, Pozzano Antimagia, Sul Morale. Colosseo Kaiser. Bella. Quando c'era il nostro Belli Amato. Poi abbiamo Terra Infuocata. Barriero degli Insetti che la giocava. Bruchido. Poi abbiamo Ispezione. Economia della Magia. Proibizione. Un NM bello. Problema che in prima. Offerta al Condannato. Walk Mistico. Ladro di Giare. La Grande Marscia degli Animali. Il Sarting Costante. Testamento della Terra che queste fanno volare. Arco d'Argento. Fabbrica delle Macchine. Bella questa. Ragazzi, tutta roba vecchissima che non so se avete mai visto. Adesso quando finirò di completare l'album ve lo farò vedere. Sarà una grande soddisfazione. Unita al Nitro. Rara. Poi, poi, la Tomba Vuota. Kiron. Anzi, mi sa che vi farò un video con l'aggiornamento della mia collezione. Così capite a che punto sono arrivato. Poi abbiamo la Manta Incidente. E poi, vabbè, è tutta roba bruttina, niente. Queste sono più interessanti. Mario Katai. Poi abbiamo Spirito della Brezza. Colletto dei Sogni in prima da LDI. Cavolo, è un vero NM? Bello questo va in collezione. Criceto Bubbonico. Cavaliere Ayabusa. No, la Scarpa di nuovo in prima, che palle. Bene, bene, sto trovando un sacco di common per la collezione. Questa in prima. Peccato, peccato. Se no, era veramente bello. Tanta roba. Poi abbiamo roba random, il mistico, zombie, buono per Gott. Vabbè, carte a caso che non servono a nessuno. Perché ho preso tutta sta roba rovinata? Bello, la Signora Pantera. Tanta roba. A questo punto potevo prendere solo la roba NM. Kraken di fuoco. Forse mi sono fatto prendere dagli artwork. Ho detto, no, figo, prendiamo, prendiamo. Che alla fine non mi ha lasciato tutto. Ha detto, prendi solo quello che vuoi, il resto me lo tengo. Quindi, un po' dalla fuoco ho preso cose a caso. Dico della roba che non costa niente. Guardate, Cavaliere Terrificante. Sfera all'artigli. Spirito di Notama. Questa è falsa. Ma perché ho preso una carta falsa? Allora, poi, Kobuto. Teschio Evocato. Anche questa è rovinata. Oh, non riesco a trovare la NM quella. Poi, questa è da SDF. Da MIP. Dai, c'è roba carina. Penso di avergli preso tutte le rare vecchie. Poi, Orco d'Acciaio. Soldato Gadget. Poi, Biblioteca. Manipolamente. Allora, Disco Combattente. No, è in prima. Che palle. Cioè, la gente, molto spesso, è contenta di trovare la roba in prima. Io la voglio in seconda, cazzo. Tanto sono common. Alla peggio stanno a 50 centesimi in prima. Un euro. A me invece tocca ricomprarle. Allora, allora. La prova dell'incubo. Manipola la spada. Adesso andiamo un pochino più veloci. Tanto molte di queste le abbiamo già viste. Sono copie di copie. Se vedo qualcosa di carino, ve lo dico. Mister Vulcano. Simpatico il nome. Orco di Pietra. Anche questo in prima. Trenti in seconda. Grande. Cioè, certe carte veramente, so... A mio gusto. Too much. Nel senso... Non so, a Kazuki Takashi credo di passare per la mente. Cioè, capisco che doveva essere un anime horror. Però... Dopo che crei le carte... Cioè, rendi tutto un po' più armonioso. Il fatto è che sono talmente brutte che fanno il giro e diventano belle. Incredibile, eh. E' una cosa che succede sempre. Cioè, più una roba è brutta, più col passare il tempo che diventa vintage. Cioè, dici, ma... Col senno di poi te posso dire che è bella, che mi piace, che la voglio in collezione, che devi spendere 3 euro per avercela. Zumbire in prima. Poi, poi abbiamo dei teschi evocati. Adesso questa deve essere DM. Tifone 2. Allora... Poi abbiamo Megami, Spade Naguato, Drago Alato. Questa è in prima. Oguki da PMT in seconda. C'è un tipo da me in fumetteria. Collezione tutti gli Oguki. E, tipo, non se ne trovano più NM. Perché li ha comprati tutti. Ha comprato pure Pelipur. Slivettina alla mano. E... Imbustiamola. C'ha un puntino bianco, però non me ne frega un cazzo. Oh, forse siamo arrivati alle prime foil. Incredibile. Abbiamo poi Spaccatura. Sopravvissuto. Un'altra Bestia Psy. Anche questa ottima. Poi Gelatina. Guardiano. Bestia congelante da DR1. Comandante deceduto da DR1. Poi, poi vediamo... PMT. Idolo. Un altro idolo a caso. Dregli Occhi. Elettrobestia da LDD. Ma se prende M. Dovrò... Resistema la collezione per forza. Sono troppe le carte. Poi Alligatore. Thun. Da SDM. Mamma mia. C'ho paura a toccarle troppo perché potrei sminchiarle. Gradius. Gradius in prima. Elfo mistico da Structure. Oh, ragazzi. Queste prese imbustate. Cioè, messe nell'album e mai tirate fuori. Il busto puncino di un assassino è perfetto. SDM. No, in prima. Castoro guerriero. Maledetto. Guardiano Celtico. Eh, no. Da espansione usciva super. Poi abbiamo il disegnatore del Lotto Rosso. Ristucchiamente. Ah, ok. Un po' di Infinitrack. Quindi mi sa che la roba falta l'abbiamo finita. E un po' di Teni. Ce n'è qualcuno bellino. È a posto. Allora, devo stare attento a non sminchiare tutto. Perché se le rovino... Non è che perdo soldi. A me l'obbliga a comprare della roba. Poi abbiamo Ombra degli occhi. E Uomo Fungo 2. Che non ho capito perché sta salendo, ma... Va bene. Poi abbiamo un... Onesto in coreano. Dei cambiare idea. Random. Polimerizzazione. Scambio creature. Mostro risuscitato. Nobili uomo. E no, da strutture. Ok. Quelli andranno nel mio mazzo. Ondata gelida. Poi... Patto del fantasma. Ombra degli occhi in prima. Salvataggio drammatico. Bello. Sigillo del tempo. Anche questo top. Tempo in prima, ovviamente. Poi, poi... Abbiamo strega oscura. Il conte del testamento. Common, a caso che abbiamo già visto. Poi abbiamo Pavone. Nel senso, cosa gli passava per la mente a Kazuki Takashi quando ha creato Pavone? Ha detto, ma... Secondo me una carta con la forma di un Pavone. Il nome di un Pavone potrebbe essere bella. Un altro Uomo Fungo 2. Che nel dubbio non me ne privo. Bello. No, Sangan NM. Via. Subito. Ciore dell'arcovaleno da PMT. Volante. Apprendista. Oshinigen. Mukamuka. Milus. Ireggiante. Sempre rara da PMT. Tanta roba. Allora. Un attimo il Sangan lo proteggo perché, caso mai, me se sminchiasse, mi girerebbero un po' le palle. Allora, queste sono foili. Finiamo con le comuni. Abbiamo Sasuke Maestro Ninja. Komodama. Strega Foresta Nera rara. Tocca a metterla in bustina. Per forza. Perché col cazzo che le ricompro. Allora. Poi abbiamo roba Fightfur. Poi Gran Maestro. Droll. Vabbè, cioè, siamo già arrivati alla roba nuova. Denko Secca. Roba Bambola Ombra. Poi abbiamo Vision. Vabbè, altri hero. Aine. Che è stata ristampata anche ultimamente. Poi abbiamo un po' di roba Marinsess. Abil Mago Nero raro. Samore Seducra raro. I tre insetti rari. Peccato che non sono un ultimate perché potevano essere belli. Come anche Mimic. Poi Drago Revolver. Spasacino Mystico livello 2. Da Sod in prima. Bello. Cazzo. Dinozario. Cucciolo di Drago. Altro di Dinozario. Torre d'ossa. Forse Asta è un set che dovrei iniziare a collezionare. Uno perché c'è tanta roba. Due perché è veramente figo. Ci sono le rare vecchie che sono spettacolo. Poi abbiamo Decodificatore. Roba random danneggiata. Ragazzo dal cielo. Cioè, nel senso. Boh, sembra Buddha. O sembra un puttino. Quelli che si vedete nelle chiese. Poi abbiamo Wombato Dess. Un altro Obuki. Ok, a sto giro è uno sleeve. Non mi frega un cazzo. Poi un Mammut. Dalle grandi zanne. Poi, poi. Andiamo con Mariela deceduta. Questa subito in sleeve. Altrimenti tocca ricomprarla. Piano, piano. Allora, orco. Robot. E niente. Finita. Subito la sleeve. A Mariela deceduta. Oh, è perfetta. No, c'è un punto bianco laterale. Che merda. Vabbè, intanto ce la metto. Poi nel caso ha sostituiso. Allora, ragazzi. Adesso andiamo con la roba grossa. Veramente grossa. Quindi, preparatevi, eh. Abbiamo. Vabbè, un Destroyer. Un Sword of Raptun. Drago Polveri Stelle Assalto. Non è questa la roba che vale. Piccolo spoiler. Però, ragazzi, è perfetta. Al massimo c'è qualche puntino bianco sul retro. Peccato che sono carte in seconda, eh. Arcidemone Drago Rosso, eh. Uno di due NM e uno NM meno, eh. Poi, Talwar. Dovrebbe essere in condizioni good, se non sbaglio. Sì, infatti. C'ha un angolino sbeccato. Però è in prima. E il front è perfetto. Poi abbiamo un Elfo Mistico in prima. Che, nel senso, mi ha lasciato pure il Guardiano Celtico. Questo lo tiro in collezione, anche se è good. Poi abbiamo questo in prima. Allora, poi abbiamo Girfrid, il Cavaliere di Ferro, in prima. Poi abbiamo Barcia. I Sette Peccati. Tarantola Famelica, che è questa roba che è stata printata una volta sola, quindi sta tipo a 6€. Numero 17. Adreus da pack, molto bellino. Dolka, in prima. Poi abbiamo Lagia, sempre in prima, da pack. Cyber Giara, che questa ovviamente va in collezione. Troppo bellina. E sotto abbiamo un Golem di Lava Super, da Retropack. Anche questa è un'ottima carta, considerando che quello Common sta a 4€ attualmente. Poi abbiamo un paio di Chimere Frammento, un in Americana. Vabbè, poi di nuovo le Common. Un Angelo Fluffal. Un Soldato. Che, comunque, condizioni buone. Un altro Ratto in prima. E quindi possono finire in collezione. Chiro nel Saggio. Quanto è bello. Questo va nel mazzo Got. Poi, Gufo Fortunato. Incubo. Giogogliere Devastante. Pomodori in prima. Molto bello. Questo in seconda, quindi uno va in collezione, uno si vende. Poi vediamo... Uh, Redox Secret. Ah no, due Ginzo ci stanno sotto. Quasi quasi mi monto Dark Ruler alla massima. Visto che posso. E cosa che ce l'ho? Poi abbiamo Murena Perforante. Maledizione del Vampiro Ultimate. Voltanis Oscuro. Poi, The Boys. Che vabbè, ce ne ho tanti. Agnientatore di ossa. Credo sia NM. C'ha un angolino qua giù in basso. Sveccato, peccato. Poi, Mobius. Invasore del Trono. Ah ok, Valkyria del Caos. Roba di Toc. Armonizzatore Forza Vitale. Dei Waboku. Mina Mistica. Secret. Molto bella. Super Poli. NM Secret in prima. Anche questa è una bella carta da giocare, eh. O in collezione. Poi. Ragazzi. Ne ho spazio. L'unica cosa, porca miseria. Quest'angolo qua, veramente. È da denunciare. Chi ha fatto un danno del genere. Ah no, anche dietro. Peccato. Era pure in prima. Poi, controlla l'avversario. Secret. Nobiluomo. Super. Marchiato dalla Rosa in prima. Poi, portale riflesso. Sempre ultimate in prima. Poi, Vat Chimera. In prima. È destino drago. Drago destino imperatore. Peccato che l'hanno reprintato. Però vabbè. È sempre da pack questo. Poi, un braccio arsenale. Catastor. Anche questo bellino da pack. Un antico drago fatato da pack. In prima. Poi, detonatore ala di drago. Ultimate in prima. Poi, ABC Dragon Buster. Combattente le lame. Drago fine oscura. Poi abbiamo un alto mago d'epano. E un'abilità risolutiva da pack. In seconda. Fai da un po'. Espansione, eh? No, DR1. Niente. Non mi serve. Ovviamente, ragazzi, se vi serve qualcosa del lotto. Scrivetemi su Instagram. Perché è quasi tutto in vendita. Poi abbiamo. Corruzione. Anfra dell'Avarizia. Vanity Emptiness. Che prima o poi tornerò da noi. Xyz Cannon e Drago Ultra. Peccato che sia good, però è ottimo. Arcidemone, dominatore dei pensieri. Americano, mi sembra. In seconda. Poi Tornado di Polvere. Retiari in prima, ragazzi. Vi giuro. In tedesco sta 35 euro. In italiano sta 45. È follia. Poi abbiamo uno Shifter Secret. Poi abbiamo Drago Frammento Atomico. Guerriero Colpo Oscuro. Un Odino. Che voglio un attimo vedere le condizioni. Io ne ho un NM. Eh, c'ha un puntino bianco. Ma nel senso fa la sua porca figura vicino a suo fratello. Sempre l'altro Odino Ultimate. No, ne Thor. No. No, Thor e Loki sono i cigli, scusate. Poi abbiamo Rosa Splendida. Gothoms. Drago Catena di Ferro Raro. Ottimo anche questo. Un altro Panda. Ero convinto di avercelo uno solo. Va bene. Adesso c'è un bel playset, cazzo. Poi Drago Teschio Nero. In seconda. Peccato che c'ha il back rovinato. Un Lama Scura Ultimate in prima. C'ha qualche difetto. L'unico problema è che i danni sono solo sul front. Peccato. Poi vabbè. Numero 17 Drago Livietano. Vediamo. Eh no, c'ha un angolo sbeccato, porca troglia. Poi abbiamo, vabbè, Drago Fotonico Occhi Galantici. Questo è in prima. È molto bello. Ma è good. Cioè un buon good, però cavolo è good. Tanta roba. Allora, poi abbiamo numero 53 Heart Heart. Numero 12 Ninja Ombra Scarlatta. Un Super Soldato. Un Gamma. Un Gear Freed. Poi vabbè, roba common. Sempre roba che probabilmente andrà in collezione. Drago Meteora. Dei Driver. Almeno così posso sostituire il mio che c'ha un puntino bianco. Ho Galileo Grugno. Dei Luce Pulsar. Uh. No, è però da Reprint, non è da pack. Peccato. Allora, allora. Andiamo agli ultimi mucchietti. Poi passiamo alla roba di Pokémon. E per concludere vi faccio vedere il sigillato. Che è di Yuki. Abbiamo Micro Coder. Queste due le versioni. Delle cose a caso. Come si chiama? Stria dalla Foresta Nera. Dei Sangan. Barbara Gold. Che... Ma lo sto rivalutando. Forse... No, è più bello o raro. No, ragazzi. Non... Non mi avrete mai. Poi abbiamo altre common. Un Cavaliere Kagemucha. Carino. Ehm... Roba a caso. Allora, andiamo con le ultime. Dopo questo c'è un altro piccolo mazzetto. Abbiamo Drago Alternativo Occhi Blu. Peccato che non sia Secret. Perché lo volevo tanto e ancora non ce l'ho. Poi abbiamo Lancea. Commando Flanvel Ultimate. Con un puntino qua un po' troppo grosso. A parer mio. Poi abbiamo Aquarius Alessia. Sempre in prima, però in tedesco. Distruttore Vulcanico. In prima. Guryu. In prima da EOJ. Questo è NM. Energy Arcane al mondo. Io confido che prima o poi la Kana mi farà uno structure di questo. E darà dei veri supporti. Poi abbiamo... Uno, due... Ah, lo Stardust Collector in prima. 200€ di carta, porca droga. Pagato un botto. Poi abbiamo Corvo DD. Cupidija Super in prima. L'unica cosa che è rovinata. Dispetto degli Yokai. Ne ho due e Ultra e uno Ultimate. Anche questa è una carta che ha un suo valore. Poi Mistica Barrile della Vita in prima. Molto bellina. Poi abbiamo Artefatto Rifugio in monocopia. Vabbè. Nebbia del Crollo. NM. Bellissima questo. Calice Proibito Ultimate. Peccato che sia tipo Light Player. Però costa una fracca. Nitro Unit in prima. Cabo Espiratorio da Retropack. L'unica cosa è che dovrebbe avere una piega da qualche parte. Poi Cyber Jara. Ah, e vabbè. Così a caso ti ricordano del Fulmine Ultimate in prima. Poi abbiamo Vailer. Kama 1. Abyss Baleon. Simog Nero. Decoici. Gadorla. E Dragon Cold Ristel. Assalto. Andiamo con l'ultimo mucchio. Abbiamo un numero 75. Bambo Ziling. Poi abbiamo Stormer. Ah, al contrario. Androide Magico da Turbo Pack. Anche questa ottima per Edison. Shaman del Teni. Kaina. Drago Teschio Nero da DLG. Bicorno Voltaico. Drago Dannato Demon Eterno Ultra. In seconda. Peccato. Poi Cordius. Togliere Drago Equiste. Bellino. Titano Drago del Tuono da MP. Poi Roba Random a caso che non sta niente. Vabbè. Carino Ciclone Cosmico. Carino Libro delle Eglissi. Pot. Terraforming. Common. Ah. Carino Twin Twister. Un po' di Proibizioni. Un po' di Calici. Fusione Occhi... Occhi Rossi. Poi Ginzo Menage. Santuario Fotonico. Sai Gamma. Anche queste ottime. Cow Space che vabbè è stato reprintato però quando l'ho preso stava già a 5 euro. Almeno quello. Poi Droll Uccello Serratura Ultra. Grattacielo. 3 Max C. Che costano uno sproposito. E un Corvo DD Ultra. Che anche questo è stato reprintato. Ma dettaglio. Me ne farò una ragione. Facciamo un po' di spazio e passiamo alla roba di Pokémon. Che qualcosa ho preso perché sapevo valesse. Qualcosa... Boh era lì. Era bello. E l'ho preso. Abbiamo un Mew di... Vabbè evoluzioni. Questo Mewtwo. No vabbè anche questo era un Mewtwo. Che dovrebbe essere un promo. Un altro del... Di evoluzioni. Menafi promo. Bellino. Poi Livrat di evoluzioni. Zoroa promo. Troppo bello. Milotic. Un paio di Charizard. No è uno solo. Poi Marock di Alola. Che secondo me è incredibile. Molto più bello dell'originale. Ne abbiamo 1, 2, 3. Pikachu del decimo anniversario. Non mi ricordo le cose. Poi un altro Charizard. Abbiamo Salamence. Kyurem promo. Non c'è santo che tenga. Il Cosmolo è incredibile. Poi abbiamo Solgaleo. Salamence. Sempre promo. Sto Pikachu strabico. Che era bellino. Electabuzz promo. Che ha visto tempi migliori. Sto Coco. Che ha visto tempi migliori. Pikachu set base. Detective Pikachu. Lo volevo perché sì. Perché non ne avevo. Machamp di Detective Pikachu. Di Tobo così. Pikachu con un pelo. Del set base. Excavalier. Cobalion. Lanes. Mewtwo di evoluzioni. No. De... Pokémon. No. Del film. Poi abbiamo Dark Weezing. Di Team Rocket. Se non sbaglio. Poi Charizard del film. Ductrio in prima. Eevee che nel senso. Capiamo. Questo ha avuto dei seri problemi nella sua vita. Anche lui. Poi abbiamo questo Pikachu. Boh. Che l'ho preso. Mi ispirava. Non l'ho trovato sul market. Ragazzi. Se ne sapete di più. Se sapete quanto vale. Fatemelo sapere. È fondamentalmente distrutto. Poi abbiamo. Nel senso. 160 euro. Di Mewtwo incapsulato. Ne vogliamo parlare? Che in inglese costa 80. In italiano se lo devono far pagare il doppio. Questo è il mercato Pokémon. Poi. New Iridescente. Energia Foglia Gold. E l'Ultra Voli Gold. Diciamo. È robina carina. Che mi fa mucchio all'altra roba che c'ho. È difficilissimo caricare roba dei Pokémon. Mamma mia. Detto questo. Adesso. Vi faccio vedere. Il Sealed. Ragazzi. Non so se siete pronti. Il primo è una roba abbastanza normale. C'ha un paio d'annetti. Però è un set fighissimo. Sarà perché io non l'ho mai aperto. Ma Legendary Duelist. Rage of Ra. Vi giuro. Che lo vorrei aprire. Attualmente. Si aggira. Da posizione Italia. Sui 90 euro. Dall'estero. Lo paghi 65. Ma c'hai tipo qui. 15-20 euro in spedizione. Quindi. Sono un po' indeciso. Perché se lo apro. Dopo mi tocca ricomprarlo. Perché non ne ho uno sigillato. Anche se io non colleziono sigillato. Però ormai ce l'ho e lo voglio. Aprere il mio miglior set led mai uscito. E l'altro. L'altro c'ha. Mi sembra qualche annetto di più. Si tratta di un box da 205 euro. Il primo che trovate sul market. L'ho preso pensando ci fosse Drago 10.000. Non è questo il set. È blara. Peccato. Però vabbè. Almeno non sono tentato di aprirlo. Per trovare il Drago ovviamente. E niente. Bam. Toon Chaos come anche l'altro. In prima edizione. In inglese. E Sealed. Considerando che poi hanno reprintato tutta la roba Toon. Sono ancora meno invogliato ad aprirlo. Quindi top. Meglio così. Diciamo tra i due. Il Legendary Duelist m'attiva un botto. Perché c'è. A parte la fusione tra Obelisk. E la poltiglia rifletti in metalli. In più c'è il Drago lato di Ra. Ghost. E quello. La metti in collezione. Me gaserebbe. Ah cavolo. Poi se non sbaglio c'è. Anche il Drago lato di Ra. Modalità Sfera. Che quello. Me ne serve un playset. Vabbè. Staremo a vedere. Se me gira bene. Un giorno. Forse in live. O in video. Ve lo porto. Detto questo ragazzi. Vi ringrazio per aver seguito il video. E un bel like. Sarebbe top. Anche una condivisione. E un'iscrizione. Ve la butto lì. Fatemi sapere qual è. La vostra carta preferita. Di tutto quello che vi ho fatto vedere. Cioè quella che vorreste voi. Detto questo ragazzi. State me easy. E noi ci rivediamo. I prossimi giorni. Sempre qua. Con un nuovo video. Ciao a tutti.